Il Consiglio Comunale di Morano, riunitosi ieri sera in seduta straordinaria urgente dopo aver deciso di accorpare i primi due punti dei tre portati da De Bartola all'attenzione dell'Assemblea elettiva e rinviare, su proposta dell'assessore Sonia Forte, l'esame del terzo inerente al baratta amministrativo, abbocciata ad unanimità lo schema di convenzione ex articolo 4 legge regionale numero 14 2014 relativo alla gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ha subordinato l'adesione della Municipalità Moranese alla Costituenda Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, Ato, alla preventiva accettazione da parte della Regione Calabria delle modifiche e integrazioni al documento disciplinante proposte dall'esecutivo locale nel fitto carteggio recentemente intercorso con gli organismi competenti. Il civico consesso, dopo l'apertura dei lavori e l'introduzione degli argomenti da parte del Sindaco sentite e discussa all'ampia e articolata relazione dell'assessore Biagio Angelo Severino circa le problematiche emerse dal lungo e ponderato esame dello schema di convenzione redatto dal Comune di Cosenza in qualità di ente capofila del nascente Ato in applicazione degli indirizzi dettati dalla Regione, che a sua volta recepisce una normativa nazionale, le forze politiche presenti nel civico consesso, preso atto delle iniziative avviate dall'amministrazione sin dalla prima comunicazione pervenute in Municipio, hanno convenuto unitariamente di proseguire nella ferma assunzione di responsabilità prettamente politica, così nella delibera resa immediatamente seguibile e presto visibile nell'area dedicata sul portale del Comune, già manifestata le settimane scorse, reiterando i suggerimenti esperiti, il tutto in piena sintonia con altri comuni del comprensorio. Negli interventi che si sono succeduti sono stati evidenziati, oltre ad un palese conflitto precettistico, soprattutto l'elevato, insostituibile rischio di ulteriori rincari della tassa sui rifiuti tari, derivante dalla impossibilità di continuare a ragionare su sistemi di raccolta autonomamente organizzati e fondati sulla premialità per quegli enti come Morano, che hanno raggiunto alte percentuali di differenzazione degli scarti e che con il nuovo sistema non trarrebbero più alcun beneficio, né in termini di respiro dei costi complessivi del servizio, né in ordine alla tutela dell'ambiente, venendo meno le principali forme di incentivazione a diversificare.